Ciao amici, oggi vi racconto la mia esperienza con questa stampante laser HP nella speranza di non farvi perdere lo stesso tempo che ho perso io. In pratica dovevo semplicemente scollegarla da una rete wifi e da un account e collegarla al mio router. Dunque, come ho sempre fatto in caso di stampanti laser, pensavo fosse sufficiente resettare la configurazione del wifi. Ora, per resettare la configurazione del wifi, su questa stampante è sufficiente premere contemporaneamente simbolo wifi, stampante accesa chiaramente, non come adesso, simbolo wifi e X, tenere premuto per un po' di secondi, 7-8 secondi, la stampante si riavvia e quindi dal software HP Smart, che è un software Android, che io uso su Android, viene poi rilevata la stampante ed è possibile procedere alla configurazione come se fosse una stampante nuova, quindi da zero. In realtà, con questa benedetta stampante non è stato così, perché solo resettare il wifi mi portava a terminare quasi tutti gli step, quindi arrivavo proprio alla fine degli step di configurazione e nel momento in cui provavo a completare la configurazione, la stampante non completava l'ultimo step, mi veniva restituito un errore e quindi dovevo rieffettuare da zero la configurazione, ma in realtà si fermava sempre allo stesso punto. Quindi, in questo caso, in questo video anzi, vi racconto come è possibile invece modificare, resettare in maniera più hard la stampante, quindi in maniera più hard, vabbè, l'hard reset della stampante, quindi non solo del wifi, come vi ho detto prima, tenendo premuto questi due tasti, ma c'è una procedura per fare un reset più profondo. Questa procedura consiste nel tenere premuto freccetta in su e tastino rosso. Mentre questi due tastini sono premuti, premere il pulsante di accensione e quando la stampante si avvia, viene qui mostrato una scritta NU sul display. In quel caso poi lasciare i due tasti freccetta in su ed X e in questo modo, in pratica, la stampante si resetta non solo nel wifi, ma c'è anche un reset più profondo del firmware. Non chiedetemi in quali termini più profondo, ma di sicuro, cosa che mi interessa e che credo interessi anche a voi, a seguito di questo reset sarà possibile completare correttamente la configurazione di HP Smart e quindi rilevare la stampante senza problemi all'interno delle nostre stampanti, come in pratica vi mostro in questo print screen. Spero di esservi stato d'aiuto e spero che non perdite lo stesso tempo che ho perso io. Al solito se avete dubbi, suggerimenti o altro lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!